Noi stamattina abbiamo realizzato l'Open Day facendo vedere praticamente agli alunni quali sono alcune delle attività. Ovviamente l'Open Day è una vetrina, c'è tanto altro. Noi siamo una scuola che punta alla qualità, le scuole superiori ci confermano ogni anno che i nostri alunni si distinguono. Noi abbiamo una progettualità di alto livello, attrezzature tecnologiche che nulla hanno da invidiare a nessun'altra scuola. Ieri abbiamo illustrato ai ragazzi il laboratorio STEM, le nuove attrezzature che si aggiungono a quelle già esistenti. Abbiamo una progettazione di alto profilo. Alla scuola secondaria di primo grado abbiamo i giochi matematici con l'Università Bocconi. Partecipiamo da anni con grande successo agli spettacoli del San Carlo, quest'anno faremo la Turandù. Giochi sportivi studenteschi, il progetto teatro. I ragazzi in terza faranno anche corsi di latino e di greco in preparazione delle scuole superiori. Ma la vera chicca della scuola secondaria di primo grado è la creazione di una web radio a partire da quest'anno per i ragazzi, che è sicuramente una singolare esperienza anche a livello tecnologico. Insomma noi dedichiamo l'anima alla scuola, ai ragazzi e siamo fiduciosi del fatto che l'immagine della scuola, sappiamo che l'immagine della scuola è un'immagine abbastanza alta nel territorio. Difatti stanno pervenendo iscrizioni anche da paesi viciniori, da San Martino Valle Rodina, da Bucciano. Ci sono ragazzi che vengono da Pollosa, da Foglianese. Quindi il mio auspicio è che venga data molta fiducia a questa scuola e la fiducia che i genitori ci daranno sarà ricambiata da un attentissimo percorso di apprendimento con attenzione prima di tutto alla relazione, con una didattica efficace per avere la conferma ogni anno dei risultati dei nostri alunni alle scuole superiori. Quindi noi abbiamo un grosso orientamento al risultato e facciamo sempre sì che tutto quello che si faccia abbia una ricaduta nella didattica e i risultati ci sono. Grazie